Oggi parliamo di una moneta venuta dall'impossibile, parliamo di Bitcoin e lo facciamo con i nostri ospiti che sono Leonardo Proni, avvocato, partner dello studio Ilex, esperto di diritto societario, diritto dei mercati finanziari, grazie per essere qui, avvocato, e ritornato da noi Andrea Boda, private banker, blogger, esperto di finanza, soprattutto fondatore del sito di divulgazione finanziaria Piano Inclinato, che è uno dei più letti in assoluto. Quindi parliamo di Bitcoin, una moneta virtuale nata dalla fantasia e soprattutto da un algoritmo, fantasia di smanettoni, nerd, tutto quello che volete, ma insomma in questo momento è una moneta che non è tracciabile, quindi valica i confini della legheità, può valicarli o meno, ma soprattutto non è messa dalle banche centrali ed è diventata il centro di un vero e proprio boom a livello di transazioni finanziarie in tutto il mondo. Quindi noi in questa puntata ci chiederemo da dove viene il Bitcoin, cosa sono le criptomonete, come possiamo scegliere per il nostro migliore investimento e soprattutto se questo boom corrisponderà a un progressivo sboom come spesso è avvenuto per le varie mode dei mercati finanziari.